L'ipocresia, 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 non offenda, il male dell'Italia oggi, quello vero, è l'ipocresia, 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 parole assurde, surreali, dette da qualche collega qui in aula, sì è vero, abbiamo sbagliato, siamo andati contro un regolamento, però il male dell'Italia oggi, quello vero, è l'ipocresia, l'ipocresia, quando noi sosteniamo che il PD è uguale al PDL, non è vero, ci siamo sbagliati, il PD è peggio del PDL perché se, non offenda, se, 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 non offenda, se, non offenda, il malaffare ha rovinato questo, no, no, non offenda, non offenda, la prego, usi un linguaggio consono senza offendere, per favore. Puniteci, sanzionateci se ce non meritiamo, ma prima sbattete fuori i ladri. Puniteci, sanzionateci se ce non meritiamo, puniteci, sanzionateci se ce non meritiamo, ma prima sbattete fuori i ladri. No, no, non offenda, non offenda, la prego, usi un linguaggio consono senza offendere, per favore. Cadri, 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 che raffredda... Basta, lei non può usare toni offensivi, toni offensivi. Il rispetto delle regole passa anche da questo, onorevole Di Battista. Non continuiamo a provocare, per favore, non continuiamo a provocare, per favore, il PD è peggio del PDL, perché se... Non offenda. Il malaffare ha rovinato questo, no, no, non offenda, non offenda, la prego. Concludo dicendo, Presidente, con tranquillità, puniteci, sanzionateci se ce non meritiamo, puniteci, sanzionateci se ce non meritiamo, ma prima sbattete fuori i ladri. Puniteci, sanzionateci se ce non meritiamo, puniteci, sanzionateci se ce non meritiamo, ma prima sbattete fuori i ladri.